Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di Luca, che ascoltiamo domenica 6 febbraio, ci ricorda tra l'altro la bellezza del dono che abbiamo ricevuto di essere, per pura grazia, nella barca di Pietro. Com'è bello vivere, lavorare, lottare insieme a tanti nostri fratelli e sorelle che condividono il sogno di Dio nella barca di Pietro. E' qui che Gesù può risuonare nel nostro cuore e nella nostra mente la sapienza eterna che riempie di entusiasmo, di forza, di gioia la nostra vita quotidiana. E' qui che Gesù ci prepara ad affrontare le prove della vita e ci insegna a camminare sui mari tempestosi. E' con la barca di Pietro che Gesù ci fa uscire dai miseri porticcioli delle nostre paure, delle nostre comodità, delle nostre comfort zone per farci gustare, spingendoci nel mare aperto del mondo, l'avventura della fraternità universale, della solidarietà senza confini. Cari fratelli e sorelle, tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedì che sempre.